Purtroppo i contagi sono in aumento e per questo motivo a mattina live decidiamo di fare un po' il punto sulla situazione soprattutto all'interno delle RSA, ovvero le residenze sanitarie assistenziali che sono state drammaticamente colpite in occasione della prima ondata. Lo facciamo in compagnia del nostro ospite, il buongiorno Nicola Galdiero, presidente Anaste Campania. Salve, grazie per essere qui con noi. Dunque andiamo proprio al centro del dibattito e del tema, come stanno oggi le RSA, qual è la situazione che si respira? Sicuramente credo che la situazione è positiva, da alcuni dati che sono stati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità siamo passati da una percentuale di contagio intorno al 2% nel periodo pandemico ad una percentuale dello 0,4% attualmente. Per cui c'è stato sicuramente un abbattimento del 70% dei contagi all'interno delle strutture e credo che il grosso merito vada ripartito da una parte alle campagne vaccinali che sono state avviate e dall'altra parte alle misure di contornimento che sono state adottate all'interno delle strutture. Infatti è stata avviata la campagna per la terza dose vaccinale, quali sono le risposte? La risposta è sicuramente positiva, io credo che le ragioni della terza dose siano partite forse da un elemento che va messo in evidenza. Oggi stiamo vivendo, se si considerano sempre i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, 27 ottobre, 2 novembre abbiamo quindi un incremento a livello nazionale, ma anche della campagna, di quelli che sono i contagi e anche di quelli che siamo nell'ordine del 16,6% in più e anche di quelli che sono i ricoveri con sintomi che siamo nell'ordine del 14,9% in più. È sicuramente questo dato che sta spingendo a livello nazionale, ma anche in tutte le regioni, tra cui anche la campagna, di spingere per la terza dose. Le RSA sono state inserite tra quelle che erano le categorie fragili, per cui dal 27 settembre si è iniziato, quindi le campagne vaccinali all'interno delle strutture sono in una fase estremamente avanzata, per cui sono stati già vaccinati tutti quanti gli ospiti delle strutture e gli stessi operatori che vi lavorano. Questo è importante perché è fondamentale in questi mesi proprio la riapertura delle visite dei parenti, degli ospiti, delle RSA. A che punto siamo su questo aspetto? Si teme che l'aumento dei contagi, ritardi, l'allentamento o anche delle restrizioni? Certo, sicuramente. Io credo che da una parte debba essere comprensibile un atteggiamento di tutela da parte dei gestori delle strutture, ma sia per se stessi, in qualità di responsabile delle strutture, ma anche perché sostanzialmente attraverso questa tutela non si fa altro che tutelare i propri cari che sono all'interno delle strutture. Quindi in questo periodo si sta assumendo sicuramente un atteggiamento più attento, più restrittivo. Si consentono comunque le visite, quindi si cerca di prevalere incontri all'esterno della struttura, laddove è possibile, o individuando quindi comunque delle aree che non siano di pertinenza a quella che è la vita all'interno della struttura. Logicamente lasciando comunque viva la possibilità che dove ci siano dei casi particolari, a discrezione del direttore sanitario della struttura, si consente l'accesso anche all'interno della stanza dell'ospite. Lei è presidente di Anaste Campania e Anaste sin dall'inizio della pandemia è a supporto della rete territoriale Campania. Ora che intravediamo un po' la luce in fondo al tunnel, secondo lei su cosa bisogna concentrarsi? Credo sicuramente che bisogna proseguire nella campagna vaccinale. Nel senso che oggi è lo strumento che più di tutti ha dimostrato comunque di fornirci una protezione, un cappello quindi di protezione rispetto a quelle che sono le ragioni del contagio. Per cui credo che bisogna ampliare, ma d'altra parte sono le indicazioni nella nota che è stata emanata al Ministero l'8 ottobre, l'indicazione è quella quindi di rafforzare ed avviare quella che comunque è la campagna vaccinale, anche nei confronti rispetto alla terza dose, di tutta quella che è la popolazione, quindi cercando quindi di tutelare ancora di più. Quella delle RSA, l'abbiamo detto spesso con lei, è una galassia molto complessa. Secondo lei cosa bisogna chiedere? Cosa chiedere anche alle istituzioni? Secondo lei occorre una maggiore attenzione da parte delle stesse? Assolutamente sì. Noi una cosa che abbiamo chiesto ultimamente è sicuramente che vengano rafforzati gli investimenti, sia attraverso la riqualificazione delle strutture, perché d'altra parte credo che le RSA hanno rappresentato, l'hanno dimostrato, essere un presidio anche territoriale. Sostanzialmente la protezione rispetto a tutte le categorie fragili, ospiti delle strutture hanno rappresentato quindi dei presidi rispetto a quelle categorie. E credo, diciamo, ne facevo discorso ultimamente con il senatore Presutto, abbiamo assistito a delle valutazioni, a degli studi che Anaste sta conducendo rispetto a quelle che sono delle proiezioni, diciamo, di invecchiamento della popolazione. Cosa dicono queste proiezioni? Dicono che in un orizzonte che può sembrare lunghissimo, nel 2075, avremo quindi una popolazione, diciamo, che tendenzialmente supererà di lunga, di gran lunga rispetto a quella che la popolazione è catalogata come attiva. Ora dico, se non si provvederà oggi in termini infrastrutturali e in termini organizzativi, quindi a mettere su delle operazioni, diciamo, che organizzeranno, diciamo questo, questo diventerà un tema quindi di emergente sociale rispetto, diciamo, a quello che sarà il futuro. Occorre quindi un maggiore dialogo con le istituzioni, impreviso di quelle che saranno le prospettive degli scenari futuri, prescindendo dalla pandemia. Io ho una nota polemica, diciamo, che volevo anche emergere. Se lei tiene presenti fondi infrastrutturali PORFESR, rispetto quindi al quadrienne precedente, diciamo, non sono stati allocate alcune risorse rispetto a quello che è il settore degli anziani. Mi auguro che nella programmazione nuova che va fino al 2027, mi auguro, diciamo, che la Regione Campania, nella programmazione economica, quindi che verrà fatto, vengano, diciamo, previsti progetti che possano invece sostenere questo settore. Magari attendiamo, per l'appunto, la replica e vediamo quale potrebbe essere il scenario. e anche un confronto. Grazie, grazie a Nicola Galdiero, Presidente Anaste Campania, per essere stato con noi e per averci raccontato lo status quo della situazione all'interno dell'RSA. Piccola pubblicità e poi ritorniamo con Mattina Live.